Benvenuti nel mondo degli orologi Seco. Seco è un marchio giapponese di orologi fondato nel 1881 a Tokyo, noto per la sua precisione e affidabilità. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, Seco è stato il primo marchio al mondo a creare un orologio al quarzo e ha sviluppato numerosi brevetti nel corso degli anni. Seco offre una vasta gamma di orologi, dalle collezioni classiche a quelle sportive, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Inoltre, Seco è anche un marchio di lusso, con la sua linea di orologi Gran Seco, che rappresenta l'eccellenza del marchio nell'alta orologeria. Seco è noto per la precisione dei suoi orologi, grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e alla cura maniacale dei dettagli. Ma Seco non si limita alla precisione, si impegna anche per l'ecosostenibilità. Infatti, Seco utilizza materiali riciclabili per la produzione dei propri orologi e promuove l'energia solare come fonte di alimentazione per i suoi prodotti. In questo modo, il marchio giapponese dimostra la sua attenzione per l'ambiente e la sua volontà di promuovere uno stile di vita sostenibile. Ma Seco non è solo un marchio di orologi, è anche un marchio di lusso. La linea di orologi Gran Seco rappresenta l'eccellenza del marchio nell'alta orologeria, offrendo orologi di altissimo livello caratterizzati da un design elegante e una tecnologia all'avanguardia. Tra i modelli più famosi di Seco troviamo il Seco 5, un orologio automatico lanciato nel 1963, caratterizzato dalla sua affidabilità e dal suo design semplice e funzionale. Un altro modello di grande successo è il Seco Prospex, un orologio sportivo noto per la sua resistenza all'acqua e alla pressione, perfetto per le attività all'aria aperta. Ma Seco non si limita ai classici modelli di orologi, ma offre anche orologi innovativi e tecnologici, come il Seco Astron, il primo orologio al mondo a utilizzare il GPS per calcolare l'ora esatta in qualsiasi parte del mondo. Gli orologi Seco sono prodotti con materiali di altissima qualità, come l'acciaio inossidabile e il titanio, e sono dotati di vetro zaffiro resistente ai graffi e cinturini in pelle di alta qualità.